Figlioli, è ora che vi racconti la vera storia in modo da porre fine alla vostra paura. È una storia di omicidio e vendetta dall'oltretomba. Tutto è benizio alla tredicesima ora del tredicesimo giorno del tredicesimo mese. Eravamo lì per discutere degli errori di campo e dei calendari acquistati dalla scuola. Maledetto tempaccio smarzolino! Non toccare a Willy. Ottimo consiglio. Allora, 12 dollari per la riparazione dei pomerini. Ricarica estintori e un servizio gratuito offerto dai vigili del fuoco. Aiuto! Aiutatemi! Willy, per favore, sta parlando il signor Van Houten. I genitori dovrebbero vedere in anticipo il menù della mensa, in maniera tale da regolarsi per quanto riguarda la cena. Non mi piace l'idea che Milaos mangi spaghetti due volte nello stesso giorno. Spaccherete per questo? Con il sangue dei vostri figli! Ma sì? E che cosa userà? Il potere scelettrico? Io le colperò dove voi non potrete proteggere! E io non sto lì! Spider Pork, Spider Pork, il soffitto tu mi spork. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider Pork.